un gt 41 e 58 secondi siamo qui a mezzogiorno sul sette estate con antonella cappelli e maurizio cicoriella eccoci qua oggi è venerdì 24 luglio santa cristina mamma mia gatto gnoor ferro un po al lutto che la penultima puntata è vero amo però tante novità ci aspettano sì ma che meraviglia oggi parliamo di estetica medica di modo e costume con dei magnifici ospiti sì 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 fantastico tutto questo però dopo la sigla e allora ciao Mezzogiorno sul sette, estate Che fai Maurizio? Oggi lo sai che faccio? Che fai? Oggi ballo Mio Dio, ce ne liberi Allora, lanciamo subito il nostro numero di sms al 333 888-7979 Oppure mandateci una simpatica email all'indirizzo di posta elettronica Mezzogiorno sul sette, chiocciola, telenorba.it Ya no es necesario que me abres más así Ya no soporto que te creas más que yo Mio Dio, ce ne liberi Por todo lo que prometiste Por todo lo que no cumpliste Y ese es tu castigo Te dejo en el olvido Por todo lo que prometiste Te quedarás tan solo y triste Sufri Sufri Ma sei Antonello Sacchetti tu ormai Sì, guardate, l'abbigliamento è un po' sacchettiano Un po' sacchettiano Che ringraziamo Ringraziamo È la prima volta che balli È la prima volta che ballo il merengue, sì Antonella Antonella, splendida Giusto, grazie mille per, insomma, esserti prestata Questa carnificina Ringrazio anche Antonello che mi ha prestato le scalpe Eh, ma ti vedo, sei veramente una mise perfetta Grazie Antonella Bravo Senti, visto che ti vedo un po' affaticato Lanciamo adesso l'Amgas, il calore dei baresi A te Mauro E qui ce n'è tanto Bravo